... Allora noi andiamo, andiamo in zona al podio a consegnare le medaglie dei 400, stile di loro femminili assolute. Terza classificata del bronzo per il team Veneto, Giulio Fraccao. Seconda argento per il team Veneto, Elora Marina. E prima le medaglie d'oro ha notato 4,15 e 47, nuovo primato del meeting, completa la tripletta team Veneto, Elora, pronto! Comunque, Fraccao al bronzo, Marine all'argento, la vincitrice Elora Brotto. Noi intanto andiamo a presentare la terza serie maschile dei 400, stile di loro blocchi in uno Franco Sandaber, in due Alessandro Campostrini, in tre Alberto Caminotto, in quattro Alessandro Bonvicini, in cinque Filippo Blasin. In sesta corsia lo ritroviamo con il campione italiano giovanile Thomas Ceccon, in sette Federico Spalotto, in otto Alessio Fiorucci. Noi torniamo in zona al podio per la premiazione categoria ragazze 400, stile di loro. Terza, classificata in bronzo per il piove nuoto, Elena Tometto. Seconda e medaglia d'argento, i colori dell'Idrous, Matilde Maduro. Pensate sul gradino più alto del podio, il suo tempo è 4 a 32 e 75. Real Sport e la sua società, Alessia Cero. ino... Allora! Allora! Grazie. 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 Grazie.